Benvenuti in CWC CWC, acronimo di Cabot Watch Company, è un marchio britannico di orologi fondato nel 1972 a Londra. L'azienda è stata originariamente fondata per fornire orologi militari alle forze armate britanniche e ha fornito orologi per le truppe britanniche durante la guerra delle Falkland nel 1982. Il design degli orologi CWC è caratterizzato da un'estetica militare funzionale e semplice, con una cassa in acciaio inossidabile e quadrante facile da leggere. Gli orologi sono noti per la loro robustezza e resistenza, con una scelta di movimenti al quarzo o automatici. Oltre agli orologi militari, CWC produce anche orologi per uso civile, come il modello G10, che è stato originariamente progettato per l'esercito britannico ma è diventato un'icona dello stile urbano. Il G10 è dotato di un movimento al quarzo preciso e affidabile e un cinturino in nylon resistente. È disponibile in diversi colori e finiture per soddisfare le esigenze di ogni cliente. La qualità degli orologi CWC è uno dei motivi principali per cui l'azienda ha guadagnato una buona reputazione nel settore degli orologi. L'azienda utilizza materiali di alta qualità per la produzione dei propri orologi e li sottopone a rigorosi controlli di qualità per garantire che ogni orologio che esce dalla fabbrica sia di alta qualità e affidabile. CWC continua a produrre orologi per le forze armate britanniche e per i civili, con l'aggiunta di nuovi modelli e collaborazioni con altri marchi. Ad esempio, l'azienda ha collaborato con lo stilista britannico Nigel Caburn per creare una collezione di orologi ispirati alla guerra del Vietnam. In conclusione, se stai cercando un orologio militare funzionale e resistente o un orologio da polso di alta qualità, CWC, è sicuramente un'ottima opzione. Con la sua lunga storia di fornitura di orologi per le forze armate britanniche e la sua attenzione alla qualità e al valore per il denaro, CWC è un marchio che merita di essere considerato. CWC. CWC. CWC.